Eh, salve, sono Giovanni Cavalli. Ehi. Lei è una signora in Pisello. Ja, Fredegonde. Cosa? Fredegonde. Non si sente bene, signora, parli in italiano. Oh, più di italiano di così, come faccio? Ah, allora c'è il problema di frequenza. Eh. E allora che facciamo? Lei è una signora in Pisello? Sì, io sono Fredegonde. Allora, signora, le volevo informare che da poco è uscita la nuova legge che si può cambiare il cognome. Lei può prendere il cognome della madre. Ma io ho sempre il cognome mio. Non per il suo marito, per il suo marito, se è il suo marito. C'è quello lì, con una gamba più in tomba che è qua. Vai, cavallo. Niente. Siamo già a posto. Io sono Fredegonde. Da oltre. Pisello, non mi interessa. Ma già dal 75, eh? E' l'altro secolo. Eh, certo. Signora, io sono in Tiretta, su RTL. Edel? RTL, la radio, in tutta Italia. Eh, va bene, va bene. Ah, lei ci ascolta? Eh. No. No. Io solo le cose tedesche ascolto. Ah, ma quindi lei è tedesca? Ma certo. Eh. Ah, quindi il suo marito non vuole sapere di cambiare cognome? No. Quindi lei è la signora Impisello? Ma Impisello è stupido. Io sono Fredegonde Dautat e basta. C'è scritto sul campanello, tutti mi scrivono così. Noi siamo a posto, ma già dico dal 1975, da quando è uscita la legge. Ah, ah, capito, capito, signora. E comunque, vuole fare un sondaggio? No. No, perché io ho da fare. Faccio le pulizie di casa, anche se mi chiamo Fredegonde Dautat. Vuole fare un saluto in diretta? No. A chi? Eh, un saluto di tutta Italia, un suo parente, qualcuno che ascolta. Siamo in Montovisione noi. Sì, non fa niente. Io voglio bene a Gesù e basta. Va bene. Ma scusi, signora. Sì, ma che devo scusare? Io lavo il pavimento. Signora, una domanda, una domanda, signora. Signora. Sì. Lei è la sorella di Sartinger. Come? È la sorella di Sartinger. Non capisco nulla. La sorella del Papa Sartinger. No, era la nipote. Ah, la nipote. Certo. Ah, ho capito. Ma è vero o...? È vero, è vero. Non diretta diretta, ma un po' parenti siamo. Quindi me lo può salutare? Lì dice un saluto da Giovanni Cavalli. Eh. Eh, sì, sì. Saluto tutti. Basta che è brava gente.